Ciao a tutti e genio sono Mario G10 e bentornati in questo nuovissimo video log qua sul mio canale Allora ragazzi vi raccomando prima di iniziare con questo video lasciate subito un bel mi piace Ed iscrivetevi al canale che è molto ma molto importante Allora io questo video lo sto registrando qualche 2-3 orette dopo la partita fra Sanca, Taldeset e Trapani Finita per il risultato di 1-0 e vedendo un po' le notizie su Facebook girano video delle proteste dopo partita dei tifosi del Trapani Tra chi diceva di onorare la maglia, tra chi diceva che Moschella deve andare via E' anche partito un hashtag via Moschella Adesso la società entro questa settimana dovrà decidere se far rimanere il nostro mister Ivan Moschella Oppure se cambiare il coach, se cambiare coach si dice nel basket, se cambiare il mister, se cambiare allenatore Dopo la partita la squadra assieme al mister e ai dottori come il dottor Mazzarella si sono insomma riuniti sotto il settore ospiti dove c'erano più oltre 90 supporter Granata E appunto ci sono state delle discussioni fra tifosi e giocatori dove parecchi tifosi hanno detto di onorare la maglia C'è stato appunto questo confronto e speriamo che già dalla prossima partita ovvero il 31 ottobre contro il Giarre Il Trapani e i nostri giocatori onorino la maglia di questa grande città perché non merita sicuramente quello che stiamo vivendo E non merita neanche una squadra del genere Quindi speriamo di onorare la maglia al presto e di ottenere sempre risultati migliori Già che sei in questa categoria per Trapani è una bruttissima esperienza Se poi i giocatori non onorano neanche la maglia e non c'è insomma c'è confusione in campo, il mister non ragiona È un casino e quindi non si capisce più niente Appunto ragazzi stavamo parlando di onorare la maglia cosa che i nostri giocatori stanno facendo in parte e in parte no Ma soprattutto deve anche fare la società Detto questo io appunto vi lascio al video che è stato fatto E durante il dibattito dura più o meno un minuto e dieci secondi E appunto andatelo a vedere Noi ci rivediamo al prossimo video Ciao Coglioni Ci vogliono le palle Le palle Coglioni Uno Chi se lo prenda l'impegno Valdone 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 Sì Valdone Valdone Ma che ti dice allenatore? Ma che ti dice allenatore? Ma che ti dice allenatore?